musica 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 bene ragazzi, ben ritornati dal vostro gioker siamo qua a Romics ragazzi dove oggi faremo la sfida di Skifidol Puts Challenge con me ho tre ospiti signori che gli farò odorare oggi le carte ragazzi cioè Puts dovrete dato le conoscete quali sono qua ragazzi intanto vi sto lasciando un'immagine dove sono andato in giro nella zona che appunto ho trovato queste carte con l'applicazione che trovate il link nella descrizione quindi se volete ve la potete scaricare è gratuita vi lascio il link qua sotto potete andare in giro nella vostra città a trovare le carte di iscritto e potenziarle ragazzi siamo pronti ad iniziare quindi partiamo subito allora queste sono le carte ragazzi che conoscete qui abbiamo Pepo che sta ridendo abbiamo Stormi ciao e dietro di lui c'è una persona oscura Zanzo allora sei pronti a odorare le carte ovviamente ovviamente ragazzi vince chi fa perso il primo punto perché non è facile indovinare eh bisogna io indovinare la cuccia sono preparatissimo sei sicuro bravo bravissimo vado ad aprire le carte eh questa qua è quella che devono capire che puzza è questa questa qua Adolfo so di zolfo adesso io ti darò questa card tu la devi grattare qua col dito quindi vai a grattare poi devi odorare e mi devi dire per te se è pupù vomito uomo marcio o pudridume una di queste quattro quindi forte gratta forte vedi secondo te che oddio che schifo tra questi quattro qual'è secondo te la mamma mia schifo schifo mamma mia uomo marcio pudridume pupù o vomito no no non te lo posso dire però aspetta risponde prego zanzo lei cosa mi dice oh guarda che buon odore vuoi anche grattare ancora che esce ancora di più la buzza eh con l'unghio con l'unghio vai con l'unghio fidati e lieva ancora vai 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 ah tu hai detto pudridume potrebbe anche essere giusto eh che schifo quali sono le risposte pupù pudridume uomo marcio o vomito? secondo me anche secondo me è anche secondo me è pudridume pudridume sentite che adesso non si sente più niente oramai ok allora basta da lui quindi due pudridume ho paura raga non senti niente adesso di grattare no raga che schifo è pudridume chiaramente è pudridume questo tutte e tre pudridume no non c'è credo tutte e tre pudridume allora aspetta attenzione o pudridume o uomo marcio quindi la sua scelta è? uomo marcio quindi due pudridume e un uomo marcio vai ragazzi mi dispiace ma la card 112 equivale alla puzza pupù ma che cazzo guarda io la cacca la faccio ogni giorno e non è cacca cioè poi non è la sua cacca magari è la sua e io non so che cacca fanno le persone io non so cioè se magari sono andate a casa senta mi fa adorare la sua cacca e magari prendano un po' ma adorate questa non è cacca infatti è pupù è più delicata allora ho aperto altre card ragazzi qua abbiamo ciruzzo mispruzzo buono ciruzzo mispruzzo ok allora questa card eccola qui ok allora vai grattala gratta bene eh aia aiaiai ah è questa quella che puzza gratta forte gratta forte se non l'ha neanche grattato gratta fuori no 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 non la gratt non la gratt non la grattare non la grattare no 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 ragazzi avete odorato la carta? quello già beve tra pudridume uovo marcio pupù o vomito? vomito un vomito vomito pudridume ragazzi senti a zero ancora no no come grattala grattala ma che gratti? gratta grattatina vai vedete le mani sul dito vai 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 va a cagare eh è terribile cos'è? è potritura è un biscotto ahhh altre card ragazzi eccole qua sta cagando sui quadri praticamente mi insegna adesso allora questa la card ok vai gratta non è forte questa quindi potrebbe essere dai non è forte tu sei intenditore tu sei intenditore non è forte non è forte non è forte direi che si sente è benissimo questo è pupù chiaramente allora stormy dice pupù ragazzi scusate mi hanno un'incombenza mi ha chiamato allora stormy dice pupù che schifo che schifo vada mamma mia ho vomito allora sono indeciso qua tra putritume e pupù attenzione ho detto vomito vomito pupù putritume vada signori signori qui in mezzo tra voi c'è un vincitore vi posso dire che il vincitore è stormy era pupù signori era un palescello un grande esperto di cacca il grande esperto di pupù niente buona forse vi ricorderete di me per i video sulla pupù non l'ho ripresa non l'ho ripresa non l'ho ripresa non l'hai ripresa no ma mia signori e niente basta succede una volta nella vita signori io ringrazio questi esseri zanzo stormy e pepo per la partecipazione samano profumo quindi niente ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video mi raccomando un bel posto in su applicazione in descrizione ringrazio zanzo pepo e stormy vi lascerò il link ai canali in descrizione al prossimo punto di vista questo giocherino ciao signori ciao ciao